Metafore calcistiche e antichi adagi. Prosegue così la polemica a distanza tra il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Alberico Gambino e la coppia Pasquale Aliberti e Monica Paolino, esponenti di Forza Italia. La questione pronto soccorso si è trasformata in un terreno di scontro o forse, siccome si usano metafore calcistiche, in un campo di calcio per due squadre contendenti. In questa vicenda non voglio parlare dei due esponenti di Forza Italia, invece credo che io sono sceso in campo in una vicenda che mi vede coinvolto in prima persona, diversi nostri concittadini, conterrani mi hanno sottoposto alla problematica che ho condiviso sin dall'inizio. In virtù di tutto questo, più che parlare di partite di calcio, più che parlare di maratone, stavo in tribuna, sì. Adesso ho dovuto scendere velocemente anche senza fare riscaldamento, scendere in campo perché evidentemente gli attori e i calciatori che in quel momento stavano conducendo la partita, a mio avviso e ad avviso di diversi nostri conterranei, la stavano conducendo in modo sbagliato, però come dire, l'unione fa la forza e io mi auguro di poter collaborare e coaduvare anche con gli altri esponenti del centro-destra per portare a casa un risultato importante, sia per Scafati che per Agropoli. Ma c'è questa possibilità di fare gollo tutti insieme? Assolutamente, io sono stato sempre un uomo di squadra. Il mio aiuto, il mio supporto, spero che possa fare un grande assist per dirla alla Maradona, no? No, ovviamente non sono io un Maradona, sono un umile portatore d'acqua, portatore d'acqua a quello che è il mulino della nostra terra e quindi mi auguro che i nostri conterranei possano usufruire della mia persona e del mio lavoro affinché si possa portare a casa un risultato ottimale. Parole che hanno suscitato l'immediata reazione di Pasquale Aliberti, commovente, ha scritto in un post su Facebook Se i calciatori non sono all'altezza, neppure il migliore Maradona può risolvere la partita. Immaginiamo quale può essere il contributo di un umile portatore d'acqua. Qui bisognerebbe licenziare l'allenatore, il colonnello che ha avuto la capacità di mettere a litigare un'intera famiglia, quella del centro-destra, altro che moglie e marito. Tira in ballo dunque anche Cirielli a Liberti che poi si rivolge direttamente a Gambino e dice Al portatore d'acqua voglio assicurare che grazie al presidente della regione o meglio di questa squadra A breve sarà presentata la modifica al decreto 49 che dovrebbe prevedere, come più volte auspicato, per la partita che abbiamo giocato Il reinserimento di scafati nella rete dell'emergenza, vista la fatica prodotta più che un portatore d'acqua a fine gara Servirebbe un buon massaggiatore, cosa che mai mi permetterai di chiedere ad un consigliere regionale.